di mafie esterne. Quanto si ricavava dal traffico di droga? Molto. Guardi, il traffico di droga oggi è l'unica fonte di reddito, a parte il racket, che io non credo sia molto importante, delle mafie. Se ci fosse stata la legalizzazione, i suoi affari ci sarebbero stati lo stesso o sarebbero stati fermati? Allora, i miei affari ci sarebbero stati lo stesso, perché io, guardi, poco prima di collaborare ho fatto una rapina di quattro quintali di lingotti d'oro, quattro quintali e mezzo, in una banca, che serviva gli orafi nel Vicentino. Però per le altre organizzazioni, la legalizzazione sarebbe la ghigliottina. mi chiedo come mai ancora non lo abbiano fatto. Beh, un narcotraffico però controllato, eh. Non è che uno vada a prendersi un chilo, deve tirar fuori i documenti, codice fiscale e tutto. E poi, se uno Stato acquista la cocaina o l'eroina da un altro Stato, con 50 euro può comprarne due chili, credo, perché non costa niente, eh. E la può vendere anche a 100 euro, tanto per dire 200, senza porcherie dentro. E io vorrei sapere, la stragrande maggioranza degli italiani, dove va ad acquistarla? Se per pagare 200 euro per un grammo, 300, dipende dalla qualità, o 5 euro? Quindi le dici il prezzo di un... Crolla, crolla il mercato. E quelli, le rapine non le sanno fare, non sanno fare neanche i furti. Per cui vorrei vederli che si ammazzano per una cassa di pomodoro. Però è ovvio che bisogna fare una cosa che è molto delicata. Però, visto che sono 50 anni, perché è perversa in tutto il mondo, in tutta Italia, soprattutto perché l'Italia è uno dei principali paesi. Perché non provano qua? Per cui, per un narcotrafficante, il nemico principale è la legalizzazione. Io sono certo. Mi metto nei panni, nei miei panni di una volta, eh. Quindi lei da narcotrafficante avrebbe combattuto la legalizzazione? Oh, guardi che hanno il terrore della legalizzazione. E tutti, non solo io. Io negli anni mi sono sempre più persuaso che la legalizzazione delle droghe leggere porterebbe a un contrasto forte alle organizzazioni criminali e anche a un miglioramento della salute dei cittadini. Perché sottrarrebbe la scisci tagliato male, una marijuana carica di veleni. Ma lei sta ragionando sulla possibilità di legalizzare tutte le droghe, sia leggere che pesante? No, io sto ragionando su come distruggere le mafie. A un prezzo che si pagherà, ovviamente, ma anche nell'acqua mettono il cloro, che fa male. Però il male è minore, se no saremmo tutti con malattie virali.